La Juve è una delle squadre più grandi del mondo e fare cento presenze non è mica facile. Cento presenze, che valore ha avuto la centesima contro la Sampdoria? Tanto orgoglio, perché devo dire grazie, perché indossare la maglia della Juve, anche se è una volta, per me sarebbe stato già un motivo di tanto orgoglio e cento volte è veramente speciale perché vuol dire che il club ha fiducia su di me, sul mio lavoro e quindi quello va ripagato sempre con dedicazione, con delle buone prestazioni. La tua prima presenza con la Juve? Contro Napoli, 4-3 abbiamo vinto, è stata una gara emozionante per i tifosi, per noi calciatori no, perché infatti io preferisco vincere sempre con più tranquillità. La prima partita di Champions con la maglia della Juve? Contro l'Atletico di Madrid, sì, a Madrid 2-2, pareggio sì. Eagle Panita, un golasso. Sì, mi ricordo. Il secondo... Il secondo ha segnato Blaise, su un cross di Alex. Quanti ruoli hai fatto? Terzino a destra, terzino a sinistra, centrale a defesa e centrocampista, quindi 4. Questo è facile. Il ruolo invece in cui non hai giocato, ma secondo te te la saresti cavata? Portieri. Io da bambino, fino a 10-11 anni, volevo andare in porta. Dopo è stato un allenatore che mi ha messo a giocare da terzino a sinistro, che è il primo, avevo 12-13 anni. E da lì in poi, penso che lui aveva ragione. Quanti gol hai segnato? Allora, questo è il primo contro Napoli. Era un calcio d'angolo per loro. Loro hanno passato la palla fuori aria. Io ho preso il rimpallo. Dopo di quello, non so, 10 secondi, ero già a fare una celebrazione con tutti i tifosi per il primo gol. Dopo ho segnato contro Sassuolo due volte. E adesso contro Atalanta, quindi quattro gol. Quello a cui tieni di più? Il primo è veramente speciale perché, è chiaro, dopo pochi secondi nel mio esodio con la maglia da Juve, davanti ai nostri tifosi. Ma comunque, se pensi, il secondo contro il Sassuolo era il giorno del mio compleanno. E quindi è stato anche speciale. Quanti titoli hai vinto? La Serie A del primo anno. Supercoppa. Hai Coppa Italia 3. Qual è quello più speciale? La Coppa Italia, l'ultima stagione, è stata speciale per me perché è una stagione difficile. Non riuscivamo a fare tanti risultati di fila. Per noi, per la squadra, è stato proprio un premio per il lavoro, per la resilienza. E quindi io rimango con questo. Avversario, risultato e marcatori della finale di Coppa Italia. Avversario, risultato e marcatori della finale di Supercoppa. Finale della Supercoppa-Napoli. E marcatore. Kulu. Cristiano. Cristiano. 1-0 è stato, no? 2-0. 2-0. 2-0. Chiesa. No. No, non mi ricordo. Quadrado. Quadrado. No. Alvaro. Alvaro. Questa è stata la più importante. Per me è stato veramente speciale perché quello che penso io quando indosso la faccia del capitano della Juve rappresenta anche quelli capitani del passato, no? Quello che hanno creato tutta questa energia che c'è la Juve. Quindi è tanta responsabilità ma è tanto orgoglio anche. Quanti assist hai fatto? Non tantissimi, no? Ma quest'anno ho fatto già una per Duzan e una per Weston. Un discurso per Weston, per Paolo, per Cristiano, cinque, non so direi sei, sì? All'inno. La tua prima e unica espulsione. Contro Bologna. Contro Bologna. Non è stata facile perché secondo me la partita prima era stata la finale della Coppa Italia contro Napoli. Abbiamo perso il rigore e ho sbagliato anche io il rigore. Però è stato proprio un punto di cambiamento, un punto dove ho pensato che io devo ancora migliorare, devo ancora lavorare di più, stare zitto e fare il mio lavoro. Questi tipi di momenti sono veramente importanti per far crescere la resilienza e la volontà di lavorare ancora di più. Qual è stata la vittoria più emozionante? Quella all'ultimo del campionato contro Bologna. Anche non per la nostra partita ma per tutto quello che c'era attorno, aspettando cosa succedeva nelle altre gare. Infatti io sono uscito secondo me al settentesimo più o meno. Ero in panchina, ho detto al mister, in quel momento ho detto mister guarda se succede questo ancora una volta lasciami giocando perché io da fuori soffro troppo. Io anche contro la semifinale di Coppa Italia, contro l'Inter l'ho andata, perché l'Inter comunque l'anno scorso ha fatto una stagione fortissima, ha vinto tanto e noi siamo andati lì con tanta personalità, con tanta voglia di fare bene. Abbiamo fatto un risultato veramente importante. Qual è stato l'attaccante più difficile da affrontare? Non è facile di difendere Leão, ma comunque è uno di quelli che mi piacciono di più da affrontare, perché lui, a lui, a Teo Hernandi, tutti questi che sono veloci e forti, a me mi piacciono da affrontare perché mettono in prova anche le mie qualità. Il primo compagno che hai incontrato quando sei arrivato alla Juve? Secondo me è Cristiano. Il compagno con cui hai condiviso più ricordi? Sicuramente Alex, sicuramente, perché è da più di 12 anni che ci conosciamo. La famiglia di Alex è diventata la mia famiglia, la mia famiglia è diventata la famiglia di Alex. E anche se siamo diversi nella forma di vivere le cose, nell'atteggiamento, ma ci capiamo benissimo. Ogni tanto lui arriva al mattino e dice sempre con la faccia un po' più seria, e la gente diceva, ma cosa è successo con Alex? Io gli ho detto, ragazzi, guarda, è Alex, non lo conoscete? Ormai lui è già qua da più di 5 anni, quindi sicuramente è un amico che è diventato un amico oltre al calcio. Il luogo di Torino che hai nel cuore? Il può, perché è dove ando spesso con i miei figli a fare delle camminate sulla bici, dove sono lì un po' a prendere un po' di energia, a respirare un'aria un po' meglio, se io può. Bravissimo, ti ricordi tutto? Sì. Grazie.